Ambo, come che lo fai? Lo fai con l'animo? Si, vai. Lo facciamo qui, la tana stagione, così trova. O, per essere unità di venti, mi sento. E' un po' che ha fatto. Per gli diagonali. però io dico, Ale Corresca non potrebbe andare per l'altra parte se non sarebbe giusto ok, arrivavamo a scopo è la scoperta esatto se serve voi per dire che abbiamo visto quel gol di non voglio della linea oggi abbiamo fatto i soldi è arrivato a fondo al limite della linea ma è sulla linea della linea, no? grazie 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 grazie